buongiorno dalla splendente santiago tutta nuvolosa oggi stiamo andando a prendere l'autobus per arrivare fino a finister perché c'è allerta meteo per questi giorni quindi o andavamo con la barca fino a finister oppure autobus e i nostri eroi ce l'hanno fatta siamo sul bus non so quante ore ci impiegherà però sicuro tanti forse riusciamo a fare il bagno dopo cinque giorni senza sole meraviglia siamo arrivati con l'autobus a finister adesso pranziamo e poi arriviamo all'ostello e poi se si può a bagno questo è carne e poli è aperto guarda che bello questa è la vista del nostro ostello siamo tornati di nuovo verso l'oceano vai giacomino vai giacomino vai giacomino vai giacomino vai giacomino e non non che bello non 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 Questa mattina quando siamo arrivati c'era la spiaggia Noi ci vediamo domani con un nuovo video sul canale Chiucco puoi far scendere la notte? No Dai la faccio scendere io Così Ciao